Musica Nel mio job day sono andato alle officine Piccini, che sono un'officina meccanica situata a Perugia Mi hanno fatto fare un giro dell'azienda, mi hanno fatto vedere tutti i reparti che ci sono in questa azienda E sono stato in ufficio tecnico, insieme ai tecnici che fanno progettazione, insomma danno delle direttive Che andranno alle officine che sono al piano di sotto In questo periodo, cioè questo è stato un giorno visto che è un job day E penso sia stata un'esperienza molto utile Però, cioè, visto la breve durata che è solo un giorno Si potrebbe, diciamo, penso allungare Cioè, è stata un'esperienza molto interessante Perché ti fa vedere anche come si suddividono le aziende Come sono suddivisi i compiti, come sono suddivise le varie operazioni anche E a seconda si può vedere come un'azienda può essere stesa Cioè, è una cosa diversa dalla scuola che ti fa vedere in pratica come funzionano le cose Spero di riuscire a trovare un lavoro che sia nell'ambito dell'ufficio tecnico Progettazione e cose così Io preferirei progettazioni meccaniche Per esempio, mi hanno fatto vedere nel job day che producevano carroponti E infatti è stata una cosa molto interessante Se mi dicessero di andare all'estero ci andrei molto volentieri Perché spero che non tutto sia incentrato sull'Italia nella mia vita, ecco